Ciao da Luci! Oggi andremo a fare questa mia bellissima canotta fatta tutta con delle piastrelle. Allora questa canotta vi devo dire che è una scommessa fatta con Francesca Lettieri, voi sapete che io e Francesca Lettieri siamo co-amministratrici del gruppo Facebook Creando con Luci e Franci per l'appunto e abbiamo i nostri due differenti canali. E Francesca questa settimana mi aveva lanciato una sfida ovviamente amichevole dicendo e sapendo che a me non piace fare le piastrelle e dicendomi che non sarei mai riuscita a fare una canotta a piastrelle. Ed ecco qua invece io ci sono riuscita. Presto quindi adesso avrete il mio video della canotta fatta a piastrelline. Presto sul suo canale La Francia e il suo uncinetto troverete invece il suo vestito fatto col punto granny perché appunto io invece a mia volta l'ho sfidata a fare un vestito granny in quanto so che a lei il granny non piace lavorarlo. Ecco, diciamo che probabilmente vinceremo tutte e due. Allora prima di parlarvi del filato vi parlo della costruzione della mia canotta. Come potete vedere è costruita in questo modo quindi ho le due piastrelline centrali dopodiché ho delle file da 6 piastrelle e con precisione 3 file da 6 piastrelle. Quindi 1, 2 e 3 per un totale di 20 piastrelle ovviamente per la mia taglia che è una taglia M. Ogni piastrella io l'ho lavorata con questo filato che è un Camilla Cotton Magic Icy Arms. Trovate sempre questo filato nello shop Italia Artisan, questo e molti altri. Vi lascerò poi in descrizione sia il link dello shop sia il link diretto al filato. Questo bellissimo filato è un 100% cotone mercerizzato, il gomitolo è da 100 grammi per 260 metri. Io per la mia canotta ne ho usati giusti giusti 200 grammi, infatti questa è la rimanenza. Non sono sicurissima che le rifiniture mi vengano con questo poco di filato che mi è avanzato quindi sicuramente userò anche qualche metro, diciamo una decina, una ventina di metri di questo. Quindi proprio veramente 10 grammi a dire tanto, nemmeno. Quindi se volete farlo della mia stessa taglia, siccome sapete che da Francesca i filati vengono venduti in lotti, assolutamente bene avanzerà anche perché un lotto è da 400 grammi circa. Quindi detto questo, io l'ho lavorato con un uncinetto del 3,5 e per l'appunto le mie piastrelline misurano 16x16. Quindi avete più o meno tutte le misure. Ovviamente se voi non volete seguire questa costruzione io nel video vi faccio vedere sì come rifinisco e confeziono diciamo la mia canotta, ma vi faccio vedere come si costruisce la piastrella e come si uniscono le piastrelle che in realtà è l'essenziale per fare qualsiasi costruzione. Quindi se voi volete farci una maglia potete semplicemente fare un pannello rettangolare davanti, quindi con un tot di piastrelle che compongono un rettangolo davanti e un rettangolo per il retro, lasciando l'apertura per le braccia e per la testa e viene una bellissima maglia. Oppure potete fare una canotta fatta però con la costruzione del tipo questa piastrellina qua, questa piastrellina qua e al centro diciamo lo scollo. Insomma ci sono molti modi per unire le piastrelle, è come giocare un po' col puzzle, lo costruite più o meno come piace a voi. Quindi io direi che adesso vi lascio alla costruzione della piastrella e a come si congiungono e ci vediamo in fondo al video. Allora, fatto il nostro cappietto iniziale vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Fate le nostre 5 catenelle, io entro nella prima catenella effettuata, tiro fuori il filo e chiudo in cerchio con una maglia bassissima. Lasciamo pure il tutto morbido, tireremo la codina a fine lavoro. Ora vado a fare 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta, 2 e 3, ed ora vado a fare all'interno di questo cerchiettino altre 19 maglie alte per un totale di 20 maglie alte all'interno del cerchio. Quindi faccio la terza, la quarta, la quinta, fino ad arrivare a 20 maglie alte all'interno del nostro cerchietto. Arrivata a fare le mie 20 maglie alte, sulla terza catenella d'inizio, 1, 2 e 3, entro in questo modo e vado a chiudere con una maglia bassissima. In questo modo, tiro un po' la codina, ora io visto che sto registrando non la vado a nascondere subito, a voi consiglio di nasconderla subito così non avete questo filo tra le scatole ed è un lavoro in meno che dovrete fare dopo. Allora io so che adesso sto lavorando bianco su bianco, vediamo se riesco a mettere il lavoro sotto così vedete meglio perché bianco su bianco mi rendo conto che non è proprio il massimo, non si vede molto. Allora vado a fare una catenella, entro nella stessa catenella lavorata in questo momento e faccio una maglia bassa. Quindi vado a fare 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle. Salto 4 maglie sottostanti, quindi sono 1, 2, 3 e 4. Nella quinta vado a fare una maglia bassa, contate bene perché la prima inganna sempre, in quanto è proprio la partenza un po' inganna. Quindi facciamo di nuovo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di nuovo ne saltiamo 4, 1, 2, 3 e 4. Nella quinta entriamo e facciamo una maglia bassa. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ho tirato un filo, eccoci qua. Saltiamo 1, 2, 3, 4. Nella quinta vado a fare la mia maglia bassa. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ed andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa, quindi all'inizio del giro. Qui vado a chiudere con una maglia bassissima. E abbiamo finito il nostro secondo giro e abbiamo questo. Questo è il lavoro che avremo. Quindi, proseguiamo in questo modo. Allora, entriamo nel primo archetto da 8 e facciamo direttamente una maglia bassa. Dopodiché carichiamo il filo, rientriamo nell'archetto e andiamo a fare una mezza maglia alta. E sono le prime due maglie. Dobbiamo arrivare ad avere 15 maglie. Quindi, carichiamo il filo e facciamo. La terza maglia sarà una maglia alta. La quarta maglia sarà una maglia alta. La quinta. La sesta. La settima. L'ottava. La nona. La decima. L'undicesima. La dodicesima. E, scusate, ho incastrato il filo. La tredicesima. Saranno tutte maglie alte. Mentre, la quattordicesima sarà un'altra mezza maglia alta. E la quindicesima una maglia bassa. Quindi, noi dobbiamo fare 15 maglie. Sono una maglia bassa all'inizio, una mezza maglia alta. Undici maglie alte. Una mezza maglia alta. E una maglia bassa. E dobbiamo fare questo in tutti i nostri archetti. Quindi, entriamo nel prossimo archetto con una maglia bassa. Poi facciamo una mezza maglia alta. Dopodiché, di nuovo. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E undici maglie alte. Una mezza maglia alta. E una maglia bassa. Per un totale di 15 maglie alte all'interno degli archetti. Quindi, facciamo così anche per i restanti due archetti. E ci vediamo alla fine di questo terzo giro. Finito il nostro terzo giro. Entriamo nella prima maglia bassa di inizio giro. E andiamo a fare una maglia bassissima. Ora andiamo a fare questo. Allora, camminiamo quindi sulla prossima maglia. Quindi, sulla mezza maglia alta di questo, chiamiamolo, petalo. Con una maglia bassissima. Andiamo a fare una catenella. Rientriamo nella stessa maglia. E facciamo una maglia bassa. Ora andiamo a fare cinque catenelle. Due. Tre. Quattro. E cinque. Saltiamo due maglie sottostanti. Sulla terza. Facciamo una maglia bassa. Di nuovo cinque catenelle. Saltiamo due maglie sottostanti. Sulla terza. Facciamo una maglia bassa. Di nuovo cinque catenelle. Di nuovo saltiamo due maglie sottostanti. Sulla terza. Una maglia bassa. Di nuovo cinque catenelle. Saltiamo due maglie. E sulla terza andiamo a fare la maglia bassa. Se abbiamo fatto giusto, siamo partite lavorando sulla mezza maglia alta. E abbiamo finito lavorando sulla mezza maglia alta sottostanti. Quindi facciamo cinque catenelle. Due. Tre. Quattro. Cinque. E ripartiamo dalla mezza maglia alta del prossimo petalo. Quindi di nuovo cinque catenelle. Di nuovo saltiamo. Due maglie alte sottostanti. Sulla terza andiamo a fare la nostra maglia bassa. Aspettate che vediamo se ci entro bene. Perfetto. Di nuovo. Un. Due. Tre. Quattro. Cinque catenelle. Saltiamo due maglie sottostanti. Nella terza maglia bassa. Di nuovo. Un. Due. Tre. Quattro. Cinque. Di nuovo saltiamo due maglie sottostanti. Sulla terza facciamo una maglia bassa. Di nuovo. Un. Due. Tre. Quattro. Cinque catenelle. Di nuovo ne saltiamo due. Quindi. Una. Due. Sulla terza. Che sarà la nostra mezza maglia alta sottostante. Andiamo a fare l'ultima maglia bassa del petalo. Quindi ripetiamo la stessa cosa per tutti i petali. Fino ad avere venti archetti. Ci vediamo all'ultimo perché vi faccio vedere come chiudere. Arrivate quindi a dover fare l'ultimo archetto. Cosa facciamo? Facciamo solo due catenelle. Carichiamo il filo. E nella prima maglia bassa di inizio giro. Entriamo. E andiamo a fare una maglia alta. Di modo da essere al centro dell'ultimo archetto. Vedete? In questo modo. Ora cosa facciamo? Facciamo. Cinque catenelle. E agganciamo con una maglia bassa nel prossimo archetto. Cinque catenelle. E agganciamo una maglia bassa nel prossimo archetto. Cinque catenelle. Una maglia bassa nel prossimo archetto. E quindi facciamo così fino alla fine del giro. E ci vediamo di nuovo alla fine del giro perché vi faccio vedere come chiuderlo. Arrivati a questo punto noi avremo fatto 19 archetti sugli archetti sottostanti. Il ventesimo che è quello di chiusura si fa come nel giro passato. Quindi due catenelle. Carichiamo e facciamo una maglia alta sulla maglia alta sottostante. In questo modo. Quindi avremo anche in questo giro un totale di 20 archetti. Procediamo così. Allora. Qua tiro il filo. Scusate. Andiamo a fare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aggancio nel prossimo archetto con una maglia bassa. Dopodiché. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Prossimo archetto. Maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Prossimo archetto. Maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Prossimo archetto. Maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Prossimo archetto. Maglia bassa. E di nuovo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prossimo archetto. Maglia bassa. Quindi dobbiamo alternare 8 catenelle. Un archetto da 8 catenelle, 4 archetti da 4 catenelle e di nuovo archetto da 8 catenelle. Alla fine del nostro giro avremo 4 archetti da 8 catenelle e tra ogni archetto da 8 e l'altro ci saranno in mezzo 4 archetti da 4 catenelle. Quindi 8 catenelle, 4 catenelle, scusate 4 archetti da 5 catenelle. Di nuovo 1 da 8, di nuovo 4 archetti da 5 catenelle, di nuovo 1 da 8, di nuovo 4 archetti da 5 catenelle, fino ad arrivare alla fine del giro. Spero di aver spiegato bene perché mi sono un po' impaperata. Comunque, sono 4 archetti da 5 catenelle e un archetto da 8 catenelle. Li alterniamo in questo modo fino alla fine del giro. Quindi alla fine del nostro giro e fatte le ultime 5 catenelle che compolgono l'ultimo archetto, andiamo a fissarlo con una maglia bassissima nella maglia alta del giro sottostante. Quindi andiamo a chiudere con una maglia bassissima e ora vi faccio vedere che cosa abbiamo ottenuto alla fine di questo giro. Ecco, qui cosa abbiamo ottenuto? Quindi avremo l'alternanza di archetto da 8 catenelle che sarà l'angolo, 4 archetti da 5 catenelle che saranno il nostro lato e poi si ripete così, 8 catenelle, 4 archetti da 5, 8 catenelle, 4 archetti da 5 e così via, fino a comporre il nostro quadrato. Ora andiamo a fare l'ultimo giro singolarmente. E quindi vi faccio vedere come si finisce la prima piastrella, quella singola. Poi vi farò vedere come invece si unisce la piastrella al lavoro. Quindi questa se è la prima la andiamo a finire completamente. Quando invece si deve unire al lavoro, questo sarà il giro dove dobbiamo fermarci per lavorare attaccandoci direttamente al lavoro. Ma adesso questo lo vediamo insieme. Quindi per l'ultimo giro della nostra piastrella entriamo all'interno dell'archetto da 8 con una maglia bassissima e facciamo 3 catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta. Ne andiamo a fare altre 7 per un totale di 8. Quindi andiamo a fare la seconda, la terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava maglia alta. Quindi siamo a metà del nostro angolo, se non volete potete portarle tutte da un lato. Facciamo 5 catenelle e andiamo a fare altre 8 maglie alte sempre nello stesso archetto da 8. Quindi andiamo a farne una 2 3 4 4 5 6 7 e 8 e in questo modo abbiamo fatto il nostro primo angolo. Andiamo a fare una maglia bassa nel prossimo archetto, 5 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto 5 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto 5 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto quindi vedete in questo modo abbiamo l'angolo e tre archetti tra un angolo e l'altro andiamo a lavorare nello stesso modo quindi nel nostro prossimo archetto da otto catenelle quindi nel nostro prossimo angolo entriamo direttamente con una maglia alta ne facciamo otto in totale tre, cinque, sei, sette, otto cinque catenelle e di nuovo otto maglie alte sono arrivata a due, quattro, sei, sette e otto una maglia bassa nel prossimo archetto ed ora ricominciamo a fare gli archetti da cinque catenelle fino ad arrivare al prossimo angolo ecco qui quindi andremo a fare di nuovo otto maglie alte cinque catenelle e otto maglie alte di nuovo i tre archetti da cinque catenelle tra un angolo e l'altro e ci vediamo alla chiusura della piastrella così che vi faccio vedere come si chiude e poi ve ne faccio vedere una aperta come si collega alle altre quindi fatte le nostre ultime catenelle e agganciate con la maglia bassa nell'ultimo archetto non facciamo altro che attaccarci alla terza catenella d'inizio in questo modo con una maglia bassissima e vedete la nostra piastrella è finita in questo modo guardate quanto è graziosa la nostra piastrellina finita ora insieme quindi adesso ne andrò a fare un'altra senza chiuderla e vi farò vedere perché ovviamente questo è il giro di chiusura perché è la prima piastrella mentre quando voi le andrete ad attaccare alle altre piastrelle vi dovrete fermare al penultimo giro perché le chiuderemo la piastrella mentre quindi l'ultimo giro lo faremo lo costruiremo direttamente sul nostro lavoro in questo caso io ve lo farò vedere appunto proprio attaccato qua perché vi faccio vedere direttamente su due angoli così vi è più semplice il procedimento è lo stesso sia che attacchiate solo un lato sia che ne attacchiate due sia che addirittura andrete a chiudere una porzione con tre lati perché noi la facciamo da zero adesso lo vediamo insieme eccoci qua come vedete io sono arrivata al penultimo giro quindi quello con i quattro angoli nei quattro angoli gli archetti da otto catenelle e al centro quelli da cinque quindi cosa faccio vado a fare le mie tre catenelle quindi e vado a fare le mie prime ovviamente otto maglie alti all'interno dell'angolo quindi le prime sostituite dalle tre catenelle e le altre sette maglie alte andiamo a fare in questo modo quindi andiamo a fare la nostra metà angolo quindi uno due tre quattro cinque sei stringiamole bene sette e otto facciamo due catenelle invece che cinque prendiamo il nostro lavoro andiamo al centro quindi prendiamo la catenella centrale di quest'angolo centriamo anche da dietro in questo modo davanti da dietro come preferite l'importante che sia la catenella centrale potreste anche agganciarvi così libere però poi vi si sposta tutto il lavoro quindi io preferisco agganciarmi direttamente nella catenella in questo modo e faccio una maglia bassa che sostituirà la nostra terza catenella due catenelle e andiamo avanti a finire l'angolo quindi carichiamo il filo e facciamo altre otto maglie alte all'interno del nostro archetto in tre in tre quattro cinque sei sette e otto una maglia bassa nel prossimo archetto due catenelle andiamo nell'altra piastrella nell'archetto dopo l'angolo entriamo entriamo al centro carichiamo il filo una maglia bassa aspettate che ho tirato il filo facciamo la maglia bassa due catenelle ed andiamo nell'archetto nel prossimo archetto della piastrella che stiamo chiudendo con una maglia bassa due catenelle entriamo nel prossimo archetto libero non ancora lavorato della piastrella già chiusa e facciamo la maglia bassa due catenelle facciamo la maglia bassa nel prossimo archetto libero della piastrella che stiamo lavorando due catenelle andiamo nella piastrella già lavorata e chiusa e facciamo la maglia bassa due catenelle di nuovo nel mio archetto libero e guardate ah ecco ce ne manca una ce ne manca una aspettate di nuovo quindi due catenelle e andiamo di nuovo nel prossimo archetto in questo modo ecco qui vediamo vedete abbiamo chiuso il nostro lavoro ora andiamo a fare l'angolo allora vi faccio rivedere perché avevo fatto due maglie nello stesso archetto e quindi non mi tornava qualcosa ovviamente dovete avere l'ultima maglia bassa nell'archetto sulla piastrella che state lavorando quindi fatta quella maglia bassa rientrate nel prossimo angolo e andiamo a fare le nostre otto maglie alte quindi due tre quattro cinque sei sette otto essendo che io devo collegare anche questo angolo vedete perché io ho collegato quello esterno adesso devo collegare quello interno e quindi cosa facciamo come prima due catenelle andiamo al centro di quest'angolo vedete che noi ne abbiamo altri già collegati entriamo proprio al centro della maglia di collegamento questa e andiamo a fare la nostra maglia bassa tiratela un pochino in modo che poi non risulti troppo larga due catenelle e di nuovo entriamo nel nostro angolo quello che dobbiamo finire e andiamo a fare le otto maglie alte restanti quindi una due tre quattro cinque sei sette e otto quindi vedete abbiamo collegato anche il nostro secondo angolo ora giriamo il lavoro in questo modo è comodo lavorare sul tavolo ma potete lavorare dove volete io sul tavolo perché ve lo posso far vedere bene come si deve quindi adesso cosa faccio vado nel primo archetto di qua e faccio la mia maglia basta 2 catenelle entro in questo archetto e faccio una maglia bassa 2 catenelle rientro nell'archetto della piastrella che sto finendo di lavorare l'archetto quello libero e faccio 2 catenelle rientro nella piastrella già lavorata e faccio 2 catenelle di nuovo archetto libero nella piastrella che sto lavorando 2 catenelle di nuovo maglia bassa nell'ultimo archetto disponibile della piastrella già lavorata 2 catenelle maglia bassa nel mio ultimo archetto libero dopodiché sono pronta vedete l'ho collegata in questo modo dopodiché sono pronta con una maglia alta nell'angolo a finire l'angolo questa volta non abbiamo più niente a cui agganciarci vedete ah no no abbiamo l'ultimo scusate stavo dicendo una fesseria scusate quindi facciamo di nuovo le nostre 8 maglie alte 2 3 4 5 6 7 8 2 catenelle entriamo nell'angolo vedete in questo caso abbiamo soltanto due angoli attaccati vedete due piastrelle attaccate entriamo al centro di queste catenelle quindi al centro di queste catenelle ci fissiamo ecco qui scusate con una maglia bassa e non con una bassissima perché la maglia bassa? perché la maglia bassa sostituisce la nostra terza catenella non ne facciamo due ci agganciamo all'angolo con una maglia bassa e poi ne facciamo altre due ai termini di catenelle è come se ne avessimo fatte 5 per quello che facciamo la maglia bassa dopodiché rientriamo nel nostro angolo in questo modo e andiamo a finirlo quindi a fare altre 8 maglie alte 1 2 3 3 4 5 6 7 e 8 e vi faccio vedere che abbiamo collegato la piastrella su due lati vedete? questa era la nostra piastrella da lavorare l'abbiamo collegata a questa piastrella tramite quest'angolo a queste catenelle che vedete sembrano un lavoro unico a quest'altro angolo poi a queste catenelle e quest'altro angolo vedete che sembra tutto un lavoro unico sono piastrelle ma sembra veramente un lavoro unico guardate ora andiamo a chiudere la nostra piastrella con libera come abbiamo chiuso la piastrella unica quella solitaria quindi non più attaccata al lavoro ma la andiamo a chiudere normalmente quindi maglia bassa 5 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto 5 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto 5 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto andiamo a fare il nostro angolo quindi carichiamo andiamo a fare 8 maglie alte 2 3 4 scusate stavo uscendo dalla camera 5 6 7 mi si è fatto un nodo aspettate ecco qua 8 5 catenelle di nuovo 8 maglie alte queste 5 catenelle vedete ci serviranno per unire la prossima piastrella 4 5 6 7 8 abbiamo fatto vedete il nostro angolo volante quindi non attaccato al resto del lavoro di nuovo maglia bassa nel primo archetto 5 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto 5 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto 5 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto e ci agganciamo alla terza catenella di inizio quindi del nostro inizio giro che era l'angolo ora vi faccio vedere che abbiamo finito vedete e abbiamo attaccato la nostra piastrellina in questo modo dovete andare ad attaccarle tutte poi deciderete voi quale sarà la forma della vostra canotta della vostra maglia del vostro cardigan quello che decidete di fare io ovviamente vi posso dire appunto quante piastrelline ne ho fatto io e insegnarvi la mia composizione però ovviamente voi deciderete se fare il progetto identico al mio oppure variarlo con le piastrelline è bello perché è come un puzzle e potete decidere voi che forma dare al vostro puzzle benissimo io proseguo con fare tutte le piastrelline che compongono la mia canotta e ci vediamo per le rifiniture a dopo quindi una volta congiunte tutte le mie piastrelline in questo modo vedete io da un lato ho già fatto un po' di rifinitura a punto rete allora potete agganciarvi più o meno dove credete io ho usato ovviamente gli archetti già appartenenti alla piastrella e poi ho agganciato vedete degli archetti anche qui vi consiglio ovviamente di contarli per farli uguali dallo stesso lato ora dallo stesso lato li facciamo insieme così vi faccio vedere come li ho attaccati io poi ognuno fa a modo suo procediamo quindi quindi io so che dall'altro lato ho fatto 21 archetti cercherò di rimanere nei 21 archetti anche da questo lato per avere la simmetria del lavoro quindi il primo lo lavoro all'interno dell'angolo prendendo sempre la catenella centrale così da rimanere un po' fissi sul lavoro quindi individuiamo qual è il filo corretto da usare ed è questo e vado a fare ecco qua la mia io faccio direttamente la maglia bassa senza stare lì a fare la maglia bassissima e poi creare la maglia bassa ecco in questo modo dopodiché vado a fare 5 catenelle 1 2 3 4 5 catenelle conto 1 2 3 4 maglie e vado appunto sulla quarta quindi ne salto 3 vado sulla quarta con la maglia bassa faccio di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle a questo punto vado all'interno di questo archetto 1 2 3 4 5 catenelle prossimo archetto 1 2 3 4 5 catenelle prossimo archetto 1 2 3 4 5 catenelle vado ad agganciarmi all'inizio quindi del nostro angolo vedete questa parte qua proprio all'inizio non importa se maglia prima o maglia dopo vi agganciate all'inizio del vostro angolo non c'è bisogno di essere fiscali l'importante è che siano lo stesso numero di archetti e che più o meno insomma sia una cosa esteticamente bella quindi di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle conto 1 2 3 4 più o meno e vado qua 1 2 3 4 5 catenelle e vado ad agganciarmi qua sulla punta dell'angolo 1 2 3 4 5 catenelle e mi aggancio sulla punta dell'altro angolo in questo modo anche se non entro vedete ne ho due sovrapposti non importa mi serve un po' per la simmetria e di nuovo ricomincio 1 2 3 4 5 quindi ne salto 4 appunto sulla quarta quindi ne salto 3 sulla quarta mi aggancio 1 2 3 4 5 mi aggancio ecco qua direttamente nel primo archetto del disegno 1 2 3 4 5 prossimo archetto 1 2 2 3 4 5 prossimo archetto insomma questo lavoro potete decidere più o meno voi esteticamente come agganciarlo come più vi piace io vi faccio vedere come ho fatto io ho tenuto di riferimento più o meno due archetti sugli angoli e poi ho usato gli archetti già esistenti ovviamente passando sopra alla giuntura diciamo dei due angoli e ho fatto così per tutto il mio giro ci rivediamo in fondo se vi è più semplice voi appoggiate il pezzo già lavorato sul tavolo in questo modo e lo usate come schema per lavorare l'altra metà di lavoro io in questo momento ho fatto in questo modo avendo fatto gli archetti diciamo tra virgolette un po' a casaccio senza un calcolo ben preciso ho usato semplicemente la prima parte come schema per fare gli archetti della seconda così sono sicura che saranno 21 archetti da un lato e 21 archetti dall'altro ora andiamo semplicemente a fare il punto rete per altri due giri quindi vado a fare una due tre quattro cinque catenelle volto il mio lavoro e vado semplicemente a fissarmi con le maglie basse una due tre quattro e cinque sempre in ogni archetto sottostante quindi lavorando il primo il secondo il terzo e così via questo per due giri o quanti ritenete ve ne possano servire quindi sempre cinque catenelle e di nuovo prossimo archetto maglia bassa di nuovo cinque catenelle prossimo archetto maglia bassa e così fino ad ottenere gli stessi giri fatti sull'altro lato della nostra canotta finiti i miei tre giri di archetti vedete sono arrivata a questo punto io ho tre giri di archetti su un lato della mia canotta tre giri di archetti sull'altro lato della mia canotta ovviamente sul retro la parte più alta è il davanti andrò a fare il settimo giro quello di chiusura degli archetti siccome io voglio che svasi un po' sul fianco la mia canotta perché io ho il fianco un po' largo cosa vado a fare la prima piastrella quindi sulla prima piastrella io andrò a lavorare degli archetti con più catenelle dopodiché stringerò toglierò due catenelle alla volta fino ad arrivare di nuovo ad avere le cinque catenelle per l'archetto se voi invece finite sulla parte alta partite con le cinque catenelle e poi sul fondo se avete bisogno di svasare andrete a fare più catenelle quindi io parto con più e arrivo con meno voi se partite dall'alto ovviamente partite con meno e finite con più catenelle come vado a chiudere ve lo faccio vedere subito quindi siamo sul dritto del lavoro me lo metto ecco qua sono al contrario per quello che mi trovo un po' scomoda bene chiudiamo al rovescio tanto è uguale dritto rovescio la chiusura ad archetti è presso che la stessa quindi cosa vado a fare farei io ho deciso che parto con 8 catenelle quindi faccio 1 2 3 4 5 6 7 8 catenelle prendo il primo archetto dall'altro lato entro al centro dell'archetto tenendo il filo adesso vi faccio vedere dove tengo il filo perché io mi imbroglio sempre dalla parte sopra dell'uncinetto in questo modo così infilo il filo nell'archetto in questo modo in modo che comunque il filo sia alla destra dell'uncinetto così non lo andiamo a torcigliare entro nell'archetto faccio una maglia bassa dopodiché faccio 1 2 3 4 5 6 7 8 catenelle ritorno sulla piastrella dalla quale sono partita ed entro nell'archetto successivo quindi il prossimo archetto libero adesso vado a farne 7 2 3 4 5 6 e 7 cerco dall'altro lato l'archetto libero che è questo entro faccio una maglia bassa di nuovo 7 per tornare indietro 3 4 5 6 e 7 chiudo con una maglia bassa sul prossimo archetto libero nel lavoro subito davanti a noi vado a farne adesso 6 1 2 3 4 5 e 6 prendo la piastrella che ho sul retro quindi l'altro lato entro nel primo archetto libero disponibile e vado a fare la maglia bassa di nuovo 6 per tornare indietro quindi di nuovo da questo lato agganciamo il primo archetto libero disponibile vedete stiamo facendo la nostra chiusura di nuovo adesso andiamo a 5 1 2 3 4 e 5 prossimo archetto disponibile entriamo maglia bassa tentiamo di stringerla un po' la maglia bassa in modo che non rimanga troppo largo il punto e di nuovo 5 per tornare indietro e 5 quindi entriamo chiudiamo con una maglia bassa adesso ne facciamo 4 fatte 4 entro dall'altro lato prossimo archetto disponibile maglia bassa 4 per tornare indietro ecco qui ne facciamo 3 1 2 3 archetto disponibile da questo lato entriamo maglia bassa 1 2 3 di nuovo archetto da questo lato disponibile ora siamo arrivati alle canoniche 5 catenelle perché ovviamente 5 sono per andata e per ritorno quindi sono 2 per andare la maglia bassa che sarà la terza catenella e le 2 per tornare indietro quindi saranno 5 quindi a questo punto io ho finito i miei aumenti quindi farò sempre per il resto della maglia 2 catenelle entro nell'archetto dall'altro lato faccio la maglia bassa 2 catenelle e torno indietro nella maglia lì nell'archetto disponibile di nuovo disponibile ecco qui chiudo ogni tanto controllate se state prendendo giusti gli archetti non che magari insomma c'è qualche disguido però non dovrebbero essercene perché se lavorate cercando sempre il primo archetto libero disponibile non potete sbagliare quindi in questo modo 2 catenelle altro lato di nuovo maglia bassa 2 catenelle di nuovo da questo lato archetto libero maglia bassa 2 catenelle l'altro lato archetto libero maglia bassa e così fino ad arrivare diciamo all'altro capo della vostra canotta quindi o sul basso se siete partiti dall'alto o sull'alto se siete partiti dal basso noi ci vediamo in fondo al termine quindi della nostra lavorazione ci ritroveremo con questo che sarà il nostro vetro vedete sotto ho lasciato un po' più larga la catenella fino via via ad andare a farla normalmente come fatta finora quindi archetti sempre da 5 vedete anche che bella la giuntura sulle piastrelle non si vede assolutamente nulla molto molto bella la lavorazione quindi ora andiamo ad attaccare le spalline allora siccome la schiena risulterà leggermente più larga del davanti non sovrapponiamo bene bene le piastrelle quindi le due centrali non rimarranno sovrapposte bene quella davanti con quella dietro mettiamo giù però in modo che il lavoro sia perfettamente piegato a metà quindi non guardiamo tanto l'attaccatura della piastrella ma che il lavoro sia ecco simmetrico in questo modo lo appoggiamo così sul retro in questo modo e prendiamo vedete io ho appena finito i 200 grammi devo iniziare il gomitolo nuovo ma mi servirà giusto giusto per le spalline quindi andiamo a prendere il nostro gomitolo facciamo il nostro cappietto ed andiamo a fare delle spalline un po' particolari allora adesso io questi marca punti posso toglierli perché erano quelli per riconoscere qual era la parte dove non dovevo attaccarmi ovviamente durante la costruzione perché in fase di costruzione più di una volta ho attaccato la piastrella nel punto sbagliato potrebbe capitare anche a voi quindi vi consiglio di delimitare la zona dove non dovete attaccare più piastrelle con dei marca punti in modo da appunto non attaccare piastrelle dove non vi servono nel caso facciate la mia stessa costruzione ma anche nel caso vi servisse questa cosa allora come facciamo le spalline detto fatto ecco qua allora io mi aggancio nell'angolino qui entro con una maglia bassa tiro bene il mio figlio vado a fare delle catenelle che mi consentono in diagonale di arrivare visto che a me esce la piastrella mi andrò agganciare nel primo archettino dopo l'angolo qui quindi vado a fare però da questo lato quindi questo archetto qui quindi adesso vado a fare una catenella contandole così faremo tutte e due le spalline della stessa dimensione io non vi dico quante ne faccio perché c'è chi fa le catenelle morbide c'è chi fa le catenelle un po' più tirate quindi è in influente il numero di catenelle che vado a fare mi basta soltanto che arrivi e poi voi sappiate quante ne avete fatti ovviamente per farle uguali dall'altra parte quindi adesso io vado a fare il mio tot di catenelle e vi faccio vedere poi dove mi aggancio con 80 catenelle per me ovviamente con la mia mano e per la mia misura tengo bene il lato dritto vedete l'angolo deve rimanere bello poggiato e arrivare esattamente dove devo arrivare quindi da questo lato io aggancerò per come piace a me per come la voglio io ovviamente proprio qui tra la fine dell'angolo e la prima maglia bassa agganciata nel primo archetto quindi vado qui entro con una maglia bassa sempre tenendolo alla destra dell'uncinetto così non aspettate ho spostato il lavoro ecco qua sempre tenendo presente che il filo non mi deve intralciare quindi entro qui in questo spazietto e faccio la mia maglia bassa ed ho agganciato la prima spallina quindi mi segno su un foglio che ho fatto le mie catenelle e adesso vado a tornare indietro però prima faccio un archetto da 5 1 2 3 4 5 mi sposto di un archetto faccio la maglia bassa e torno indietro verso il mio angolo facendo le catenelle che mi servono per tornare indietro quindi anche qui voi farete le catenelle che più vi piacciono che più vi sono comode e soprattutto per la vostra mano vi servono quindi io ne ho fatti 80 per andare e 75 per tornare rientro nel mio stesso angolo dal quale sono partita e faccio una maglia bassa ora se la matematica non mi inganna dovrò togliere altre 5 catenelle e allora vado a fare questa volta 70 catenelle insomma faccio andata e ritorno in questo modo aggancerò nel prossimo archetto quello a fianco e lo farò per 4 volte per tutti e 4 quindi vicino all'angolo e per i 3 archetti farò andata e ritorno tornando sempre nell'angolo in modo da avere delle spalline incrociate ma distanziate in questo modo quindi poi avrò un incrocio di spalline noi ci vediamo quando avrò finito ovviamente questo incrocio e andiamo a fare l'altro fatte le nostre 4 spalline da un lato prendo i due fili l'inizio e la fine diciamo le codine iniziali e finali e vado a girare attorno alle mie catenelle superiori quindi queste insomma in modo un po' strettino e facendole esteticamente un po' belle in questo modo vado a girare le mie codine quindi invece di tagliarle vado a fare diciamo il nodino per tenere unite le mie spalline in questo modo quindi vediamo un po' così in questo modo facciamo un po' di giri in modo da avere un bel torciglione con questa sono arrivata quindi mi fermo allora una la faccio passare all'interno dell'angolo così insomma posso bloccarla l'altra qui faccio il mio nodino dopodiché le codine che avanzano ecco qua il mio nodino un po' un po' fatto ecco qua così le codine ovviamente non le taglio proprio lì lì ma vado a nasconderle prima di tagliarle in modo che non si sfidino altrimenti ci ritroviamo con diciamo tutto sfilato vedete si ha questo risultato da questo lato tirata così e da questo lato ovviamente la spallina unita quindi giù separata e sopraunita andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte quindi guardiamo bene dove abbiamo agganciato di qua per la simmetria e andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato noi ci vediamo proprio alla fine di quest'altra spallina se vi può piacere quando passate di qua potete far passare dentro alternato ecco il filino in modo che rimanga anche incrociato se vi può piacere io penso che lo farò quindi poi guarderò a fine lavoro se vorrò fare qualche altra rifinitura oppure lasciarlo così ma questo lo vediamo insieme dopo arrivata a questo punto come potete vedere ecco qui la mia canotta è finita con l'incrocio non ho ho deciso di non rifinirla perché mi piace che abbia questo aspetto così leggero l'avrei dovuto rifinire con comunque il punto catenella e non aveva senso sinceramente fare una rifinitura catenella quando io comunque già ho delle catenelle sulla mia piastrella quindi ho ritenuto di lasciarla esattamente così come quindi io direi che la mia canotta è finita io spero che vi sia piaciuta vi lascio ovviamente sempre tutti i link del filato dello shop italia artisana del mio gruppo facebook creando con luce franci che ho ovviamente in coamministrazione con francesca lettieri che è la nostra amica youtuber del canale la francia e il suo uncinetto vi invito ad andare a vedere anche il suo canale e ad iscrivervi siamo è veramente una cara amica abbiamo aperto il nostro gruppo facebook insieme quindi insomma lavoriamo a stretto contatto e siamo molto collaborative quindi vi invito anche a far crescere il suo canale oltre che far crescere il mio quindi chi non fosse ancora iscritto può tranquillamente iscriversi cliccare sulla campanella nel caso non si voglia perdere la notifica dei miei prossimi lavori io vi saluto un bacione grande ciao ciao da luci al prossimo tutorial ciao